Si comincia così, da una fotografia fatta alla stazione, in quelle macchinette. Si alza la tendina e ci si mette in posizione, con gli occhi fermi davanti alle crocette. E flash, 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 300 lire in un minuto, quattro foto. E flash, 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 300 lire in un minuto, un depravato. Peccato, credevo di essere più luminoso, è colpa delle macchinette. Mi ricordo anche la Patrizia, giovane, tratti regolari, carina. Flash, flash, assassina. E' così Patrizia, si comincia così. Davanti agli sportelli, in ufficio postale, ti senti un po' impacciato e ti guardano male. Io sono calmo, li ho contati, ne ho davanti nove. Una donna si insinua, le donne sono più brave. Io sono calmo, però, ma controllo con l'avambraccio. Tengo duro in silenzio, lei mi odia, io la schiaccio. Io sono calmo, aiuto, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha insinuata. Maledetta, l'avrei ammazzata. Meno male, si sono ribellati tutti, ci si urta, ci si spinge, senza complimenti. Siamo impazziti, siamo furiosi, siamo stravolti. E' più che giusto, siamo assetati di documenti. E tu, Patrizia, che faccia fai quando vai in un ufficio a chiedere una tessera? Ma come fai? Non ti conosco. E Mauro, il tuo Mauro che va sempre in India, l'avrà dato anche lui l'esame della patente, in macchina, con l'ingegnere. Sembra impossibile, eh? E che faccia avrete quando pagherete le tasse? C'è gente che non può pagare le tasse, non può fisicamente, dovrebbero pensarci. Non importa, Patrizia, ormai ce le siamo fatte le fotografie. Flash! Ti ci abituerai, ti ci abituerai, si comincia sempre così. Da una fotografia, mi seguirà dovunque, l'avrai sempre presente, fa già parte di te. Non puoi buttarla via, non la puoi strappare, non ci riesci. Ti ci abituerai, ti ci abituerai, ti ci abituerai. È un essere uguale a te stessa, che non conosci. E porterai a spasso, un doppio di te. Una specie di morta venuta male, con gli occhi in fuori, una criminale, che non ti lascia mai. Ti ci abituerai, ti ci abituerai, noi non faremo più nessuna resistenza. Noi che eravamo certi, di non essere coinvolti, ora si può contare, sulla nostra presenza. Lo sai che siamo attesi, alla mutua, all'igiene, alle scuole, agli ospedali, ai seggi elettorali. Lo sai che siamo attesi, con le nostre carte, coi timbri, coi fogli registri, coi certificati, le carte da bollo, identificati da schede e da nastri, siamo sommersi, siamo dentro fino al collo. Grazie. 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 Grazie.